Siamo sulla strada che collega Mazzone a Rossiglione, qui nel comune di Campoligure, come vedete una frana in mezzo alla strada. Il maltempo di ieri e di questa notte ha flagellato questa striscia di territorio tanto provata a livello idrogeologico. Siamo alla stazione di Campoligure, come potete vedere nelle immagini, una frana colto quel versante facendo crollare una casa, la potete vedere in mezzo alla boscaglia, è crollato anche il guado di Via del Campazzo, una situazione molto grave per Campoligure che da Mazzone verso Rossiglione vede bloccata anche la strada di Via della Libertà. Qui una curva dopo in direzione di Rossiglione, Viale della Libertà, è chiuso al traffico perché nella notte una frana si è portata via la Chiesa della Misericordia. I tecnici di Anas e i rocciatori sono al lavoro per capire i tempi e i modi di messa in sicurezza della collina. Da qui, da questa piazza della stazione, partono i bus in direzione Masone.